Salve a tutti Blazers e benvenuti in questa nuova I am Mob Challenge Dove ragazzi non andremo più a impersonificare, a disghissarci da un mob ostile Ma questa volta sotto vostro suggerimento proveremo un mob pacifico Vale a dire il maiale In teoria nessuno si aspetterebbe Sei un maiale Eren Sono un maiale raga lo ammetto, sono un porco e nessuno se lo aspetterebbe Perché che ci fa un porco nelle Sky Wars? Perché lo dovresti uccidere? Quindi ragazzi proveremo a vincere una partita Vediamo come evolverà la situazione Lasciate un like, mi raccomando, se volete altri episodi di questa serie A prenderci il mio like, nuovo video! Con un mob che se volete suggerite voi nei commenti Ci vediamo in partita Un hashtag mob, ciao Siamo un... Ok, sono un maiale Sei un maiale Che bello essere un maiale Sono contento, guarda Attenzione, Cinematic by Madame Hachi Grande, il mio cameraman Maialino, dove sei finito? Sono andato nei sotterrani È un casino Ciao, ciao maialino Ciao, non so dove sei Aspetta Ah, una chest Ok, ma mi comporto da maiale? Riesco a comportarmi da maiale secondo te? Abbastanza Va bene, aspetta Adesso intanto mi metto un armor Minchia, ho forza Ho trovato forza Che cosa ignorantissima Dietro di te ci sono le enderpearl Grande, che top 16 te ne ho date Che top bomber Io sto facendo certe riprese Che manco team Guarda, 16? 16 Ok Io mi tipo là L'hai missata L'ho missata male Però ne ho 16 Quindi ci sarà qualche player qua di dentro Che dici? Devi vedere te in partita quanti morti c'erano Minchia, siamo vivi in quattro, Marci Io provo ad andare al centro diretto Mi sa che Vai Conviene Certo è un pig che si Si tippa via così Ma mi si vede la spada? No, no, non vedi Sei proprio un pig E basta Che bomba E quella è la cosa bellissima Ho anche trovato Ho trovato speed Ti immagini un maiale che Adesso me la piglio Marci Guarda Si stanno un po' Prendendo tra loro due C'è uno qui E non è arrivato un altro Pro pvp E un altro ancora Guardate non ti sgamano Aspetta No Mi ha sgamato e come? Si è bloccato Oddio L'ho ucciso Mi aveva colpito a caso Mi aveva colpito a caso Sì ma non ti aveva sgamato Adesso ho la pozione di forza e la mela d'oro Dove sta l'ultimo? È sotto? Eh mi sa che mi ha visto No non riesco a scendere io Ciao bomberino Vabbè ti uccido Hai vinto? Cazzo ho vinto però non siamo riusciti a trollare molto bene Direi di farne un'altra Pesa Perché ne è arrivato uno che mi ha subito colpito Mi ha sgamato subito Sai cosa possiamo fare? Nella isola di qualcuno Che tipo dietro sto qua che non ti vede Mi sta guardando male Marci Momento di silenzio Mi ha colpito Mi sta colpendo Aiuto Ok No 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 Che succede? Mi ho salvato la vita Che 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 L'ho buttato giù Però all'inizio non ti aveva sgamato Sì ma poi mi ha dato un colpo Aspetta guarda Aspetta aspetta Devo recuperare vita Aspetta No no ma c'è uno dietro Guarda lo stavo per uccidere Ah oddio Sono andati indietro Non ti stanno cagando Non ti cagano Aspetta Questo qui è un attimo di panico Ti ha guardato E ha detto Oh ma cosa devo fare adesso? C'è un maiale lì Però non mi serve la carne Rido Ok Stanno facendo le loro cose Quindi io No L'ha buttato giù Me la maialo Qui sul ponte Ecco bravo Guarda anche qualche volta giù E se sono un maiale Non devo guardare il cielo No non ti Oddio Sto malissimo Sto camminando pianissimo Vedo che lui mi guarda E la lascia in mano Sono un maiale Lui non ha capito nulla E io posso seguirlo Però Ah il problema è che sta correndo via Aspetta mi avvicino Faccio il maiale ignorante Che salva Io sto malissimo Lo giuro Ma se io mi tipo di ignoranza al centro Eh tipati di ignoranza al centro Sono al centro Sono al centro Si stanno scontrando in due Ok io ne approfitto per prendere roba qua Tipo ho preso un arco Ok Donna Precce Mila dorata Occhio Attento Legnose quello là Si Quello davanti a me Ti giuro Ti giuro sta parete Sei immetizzato troppo bene Io te lo giuro Si ma quello Mi sta guardando male Fai finta di niente però Te fai finta di niente Si si Ma se tipo spono qualche pig Ci confondiamo tra i pig Si Guarda guarda non ha capito Lui li sta uccidendo Purtroppo in chat Spammano un sacco Dicono che siamo noi Oddio Aspetta aspetta Wait 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 Quello sta uccidendo un maiale Ma non ha capito che è un vero maiale Ah Ok Guarda c'è la carne per terra Le spono un po' in giro Aspetta che tolgo l'f8 Oddio Oddio Non ci credo Vedi dove sono io No Io vedo tutti i maiali Ok 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 ti vedo Va bene stai facendo una buona cosa Perché lui è concentrato su questi maiali qui Si dove siete eh Salta Ok ti vedo ho capito che maiale sei È grave come cosa Posso mettere una main tag a uno e chiamarlo Aaron Blaze Così lo confondiamo ancora di più Io niente io continuo a camminarmela in giro easy Ho sdoppiato 64 name tag Siamo in 3 in questo momento Secondo me lui Non sa più che io sono qui Cioè Non sa più arcando Ma tu quale sei maiale Sono vicino Salto Ma io ho dato la name tag a te Ma come mi da Io ora mi chiamo Aaron Blaze Si Come si No ma No Marci Beh ma tanto la name tag da lontano non si vede lo sai vero No ma adesso sono un target facile Mi sono tipato male mi sa Mi ha visto tiparmi Mi ha visto tantissimo L'ho frecciato Si si metti lì dei maiali vicino Così lui pensa che Che mi sono tipato lì tipo Che tipi Dove sei? Sopra la torre Aspetta che Metto un maiale dietro di lui E lo becco Vai Guarda guarda Infatti lui pensa che sono gli altri maiali adesso No sto cercando di colpire me Non capisce più un cazzo Fai finta di tiparti? No io faccio finta che Sono il maiale Sono un maiale normale Io ti giuro Beh tutto ciò sai che c'è un'altra persona In partita Ma non sto facendo una sega Dove è l'altra persona? E Bo? Come si chiama? No Bosche04 Ma è shiftato? Sta andando in giro shiftato? Mi sta buttando le palle di neve Ma che Comunque non si sa Ah ma giusto Mi hai dato la name tag Ci credo che sa che sono io No no Non ti si vede la name tag Guarda cosa faccio Guarda No se n'è andato Ora ora Ma io è lì Preso No ha finito le frecce Marci Li uccide tutti Mi ha cacciato per spartare Come hai fatto a capire che sono io? Ok Che 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 che? L'ho buttato giù L'ho buttato giù L'ho buttato giù L'ho buttato giù Ma come? Te lo giuro Non ho cibo Adesso quello lì è altamente confuso Perché ci sono un bordello di maiali Io le particelle forse Sì Sei questo? Sì 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 basta Guardando me Aspetta Lo sto distrendendo un botto Per quelle particelle Oddio Devo mangiare Lui non ha la più palida idea Tra i mille maiali che ci sono Io chissia Ce ne sono due anche sulla sua isola Appena si gira un attimo Io cerco di underperlarmi Tipo ora Paura Ok dove sei Ti vedo Salta? Eh Marci È un po' rischioso saltare Sei quello che sta per salire le scaline? Sì guarda Secondo me No lui sta Sta puntando i maiali ancora là Non è in alto sta puntando Aspetta butta un botto di maiali Aspetta li sono dietro Lì sono dietro Eh vabbè ci sono qua Ci sono in guadalare Voglio vedere cosa fa Ciao Ciao bomber Oddio Ciao ciao Potrei anche andarmene Tipo fargliela pesare Invece no Hai vinto? La vinciamo La vinciamo La vinciamo La vincita La vincita La vincita La vincita La vincita La vincita Il maiale è OP Il maiale è OP È insgamabile Bellissimo Il maiale Veramente E quindi ragazzi Questa è stata la I am mob challenge Della settimana Io sono diventato un maiale Vedremo un po' Cosa diventerà Marci nel suo canale Quindi passate anche da lui Mi raccomando Se vi è piaciuto Lasciate un like E suggeritemi Nei commenti Altri animali Da provare Il maiale è stato Un suggerimento Animali fantastici Dove provarli E dove disghisarli Un saluto Da Aaron Blaze Ci vediamo Settimana prossima Ciao a tutti Ben